Ho venuta qui stasera perché ho deciso di cambiare vita questo è il 2003 io il 23 combio anche io gli anni e se questi sono i miei primi 40 anni figuriamoci se conti tanto ormai con mio marito siamo alla frutta e non parlo di banana voglio avviare un nuovo appuntamento c'è posto per te chi si vuole appresentare si appresenti i requisiti sono i seguenti in primis deve avere le tre S come a mia se che si signore e sensibile poi se vogliamo approfondire A A mi deve amare B mi deve bastare K mi deve capire D mi deve desiderare sempre prima e dopo i pasti e mi deve entusiare e mi deve entrare nell'anima anche se ce l'hai lunga ma non mi arriva al cuore F mi deve affascinare F mi deve affascinare G mi deve girare gli assegni H mi deve accarezzare sempre quando meno me l'aspetto I mi deve intuire lei mi deve leggere nel pensiero me mi deve mantenere me mi deve notare ovunque ovunque io mi ho sperdita lui mi deve notare se no se non me ne riconosce lui che mi deve riconoscere o mi deve offrire si sa facciamo la romana quella romana io sono siciliana poi mi deve proteggere quando mi deve proteggere laddove io sono fragile laddove io sono fragile sempre mentre vivo perché ora parlare di se stessi è una confessione impossibile si finisce per raccontarsi migliori ma anche peggiori di come probabilmente si è e poi che ne so io chi sono davvero ma guardo allo specchio e capisco che potrei essere più felice ma da lì a sapere perché non lo sono una ruga agli angoli del cuore una smagliatura sull'anama o forse perché quello che sento dentro è più grande di quello che succede fuori non che fuori non potrebbe esserlo grande ma dovremmo tenerci un po' meno dentro le nostre perplessità le nostre paure ci adeguiamo all'oscurità che in vera invece di rischiararla con i fuochi d'artificio delle nostre diversità qui mi deve custodire lei ci tieni alla macchina o alla moto o alla bicicletta lei ci tieni e stai attendo no? perché hai paura che si affottano la donna uguale r mi deve rispettare se mi deve sentire te mi deve trombare e uuuu uuuu quante cose vuoi sapere sono stata spiegata? grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti